Più controlli sull'Aquila-Vizzano per arginare il fastidioso fenomeno dei furti che sta tenendo in apprezzione la popolazione nell'ultimo periodo. I comuni e le forze dell'ordine collaboreranno per contrastare l'ondata di furti che nel capoluogo ha interessato soprattutto le frazioni, per Turo in particolare, ma anche il quartiere di Pettino. È quanto emerge dal vertice del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è riunito dopo la segnalazione del consigliere comunale Livio Vittorini, raccolta dal sindaco Biondi e girata a Questura e Prefettura. Nel corso dell'incontro sono state valutate diverse iniziative di prevenzione e contrasto al fenomeno. Il prefetto Cinzia Torraco ha fatto presente che l'attenzione rispetto a questa problematica è sempre alta, sia attraverso i continui controlli delle forze dell'ordine che con l'operatività dei progetti di videosorveglianza nelle città. Per il Comune rappresenta l'assessore alla polizia locale, Laura Cucchiarella. Emerge la grandissima attenzione che il prefetto dell'Aquila ha voluto dare a questa serie di furti che si sono scatenati negli ultimi giorni, soprattutto nella zona di Preturo. è molto difficile riuscire a sradicare questo tipo di criminalità. Però viene fuori da questo tavolo sicuramente l'attenzione e la disponibilità ad un aumento dei controlli. Gioco forza con lo stesso numero di agenti sempre a disposizione sul nostro territorio. C'è però una collaborazione importante, una sinergia tra le amministrazioni locali, perché il problema riguarda anche Avezzano e le forze dell'ordine, prefettura e questura. Sì, sicuramente c'è una grande sinergia tra tutte quante le compagini che si trovano ad affrontare questa serie, ripeto, di furti che purtroppo, stando anche a quello che è successo negli ultimi anni, i gioco forza continueranno ad aumentare o comunque sia continueranno ad essere presenti, soprattutto durante questa stagione, perché naturalmente si farà notte prima. Ci saranno le condizioni purtroppo che faciliteranno il lavoro, mettiamola così, a questa tipologia di malintenzionati. Da parte delle forze dell'ordine ci sarà dunque la massima disponibilità per collaborare con le amministrazioni locali. Il sindaco di Avezzano Gianni Di Pangrazio ha chiesto maggiore controllo nelle zone centrali della città la sera, anche attraverso forme di controllo che già sono state sperimentate in passato.